Ciao a tutti Ecco Matteo Friulano, se non ricordo male del team Bonasgrohe Sei mancato al giro, quali sono i tuoi prossimi obiettivi quest'anno? Ma adesso farò il campionato italiano poi andrò in altura a preparare Welta e il Giro di Polonia e finale di stagione Matteo, che ci fai oggi in provincia di Brescia? Sono venuto dalla mia ragazza che vive appunto a Salò e niente, poi dal mio amico Cristian Scaroni e niente, adesso andiamo a fare un aumento Te leni spesso qui in zona? Quando capita, sì Quindi sai che tu sei malagolatamente nel gruppo con Scaroni e tutti gli altri Esattamente Ecco, raccontaci un po' del vostro gruppo Ma, ormai purtroppo adesso ho visto che c'è anche Sonny qua vicino nelle vicinanze e vediamo se si avvicina e niente, no, qua c'è sempre grande festa quando ci alleniamo tutti insieme Ecco, diceva prima Jacopo, il Cuba che il più ritardatario è Scaroni Puoi confermare Dopo di me, sì Dopo di te Ritardatario Quando c'è l'appuntamento è Scaroni Poi pausa caffè quello che spinge di più è il Cuba? Sì, si può dire di sì e poi nel lamento c'è Sonny Il Sonny c'è quello che spinge invece è il capogruppo Matteo, che dire anche per te in bocca al lupo davvero per le prossime sfide Grazie mille Grazie mille Grazie mille